Siamo in diretta dalla rassegna degli autori emergenti di Eleonora Marsella, siamo con Massimo Festa. Allora Massimo, oggi quali libri presenterai qui alla rassegna? Allora, presento principalmente il libro I viaggiatori del tempo, prima serie di Aletti Editore. E questo libro di cosa tratta? Questo libro tratta la prosecuzione ideale del libro di poesie Il Paradiso degli Amori Impossibili e tratta una nuova avventura, cioè una narrativa orvegliana in un mondo utopico e nello stesso tempo distopico del 3015 dove si parla di Zionix che è la nuova Matrix. Quindi i protagonisti Emi e Max, che sono i viaggiatori del tempo, abitano in un mondo dominato dai banchieri e dai robot. Quindi questa è la differenza con Matrix. Mentre in Matrix, mentre nel regime di Matrix, gli esseri umani avversano i robot, cioè le macchine, invece nella narrativa sui viaggiatori del tempo, Emi e Max e gli altri ribelli umani avversano i banchieri e i robot. Come ti sei immaginato questo mondo? Ma soprattutto l'idea di creare questo mondo, anche le immagini che magari lo scrittore poi mette all'interno del suo libro, come ti sono venute in mente? Mi sono venute in mente da episodi reali che sono accaduti e che poi ho unito alla finzione letteraria. Cioè nel senso che nella vita di tutti i giorni noi viviamo in un sistema di potere che è falsamente democratico, cioè è una semidittatura mascherata da democrazia. Infatti diverse volte quando vediamo su internet e su Google, noi possiamo vedere che ci sono diversi studiosi che appunto ipotizzano che noi già viviamo in una Matrix, cioè in un sistema di manipolazione mentale. La differenza è che mentre Matrix è ambientato, cioè mentre la realtà olografica di Matrix è ambientata negli anni 99-2003, perché i film della trilogia di Matrix sono in quegli anni, invece la narrativa sui viaggiatori del tempo, che appunto riguarda il sistema di Xeonix, la nuova Matrix, è ambientata proprio in un mondo avveniristico. Quindi ho unito degli episodi che sono accaduti realmente alla pensione letteraria di Mimax che non si fanno spaventare dal regime di corruzione. Quindi il regime che noi viviamo in questo momento è secondo te quindi antidemocratico, quindi controllato anche dall'altro, come si differenzia però dal mondo che hai creato te? Quindi quali sono poi le caratteristiche di quel sistema antidemocratico? Allora, praticamente per differenziare quella che stiamo vivendo noi e quella che vivono gli antenati dei viaggiatori del tempo, Mimax, che nel libro sono Angelo e Angelo, cioè quella che viviamo noi è una semidittatura, invece quella che dovremmo vivere, ma come ipotesi letteraria, tra mille anni è una vera e propria dittatura, cioè nel senso che c'è una dittatura mondiale, New World Order, nuovo ordine mondiale, è un termine che ricorre già da diverso tempo, cioè è un termine reale, cioè già i potenti da diversi anni stanno parlando della necessità di realizzare un nuovo ordine mondiale. Cosa rimane al lettore quando ha finito il tuo libro, secondo te? Allora, l'importante, cioè ciascun lettore deve dare valori morali, valori positivi, mentre nella narrativa distopica di Huxley e Orwell noi vediamo la descrizione del male, la descrizione del mondo nuovo di Huxley e la descrizione del pianeta Terra schiavizzato di Orwell, appunto è proprio da questo che nasce il termine regime orvegliano, noi in questa narrativa distopica vediamo il circolo vizioso del male, cioè nel senso che non si esce fuori, che i ribelli umani non sanno come uscire, invece nella narrativa sui viaggiatori del tempo si ipotizza un mondo avveneristico, ma in questo caso i ribelli umani sanno come devono comportarsi, cioè sanno qual è il varco d'uscita dal male verso il bene. Tra l'altro una bella frase che hai detto anche in diretta qualche giorno fa, hai detto noi comunque tutti viaggiamo nel tempo, magari non come descrivi nel libro, in avanti, ma cioè all'indietro, ma comunque noi riviviamo, com'era quella teoria? Neanche riesco bene a dirla. Semplicemente noi adesso stiamo viaggiando avanti nel tempo perché nel nostro campo relativo e non quantico noi andiamo avanti nel tempo perché il tempo passa dal passato al futuro, quindi noi andiamo avanti. Certo, con i ricordi possiamo andare indietro. In un campo che appunto va oltre la nostra realtà, il passato, il presente e il futuro sono uniti. Questo già lo teorizza la fisica quantistica e le varie interpretazioni della fisica quantistica e sono proprio queste interpretazioni della fisica quantistica che io sviluppo in chiave narrativa, appunto considerando i viaggi nel tempo. Questo non è l'unico libro che hai scritto, hai scritto anche una raccolta di poesie. Progetti futuri? Progetti futuri, sto finendo, sto agli ultimi capitoli del secondo libro sui viaggiatori del tempo che anticipo, mi hanno chiesto quando uscirà, sarà lungo più del doppio rispetto al primo perché vi sono anche molti dialoghi. Il dialogo è molto importante nella narrativa ma anche nella vita di tutti i giorni. Poi dovrei finire un paio di libri di poesie e poi dovrei continuare, appena avremo tempo, dovremo sistemare anche il secondo libro sulla mafioneria che praticamente è come se fosse il libro sul sistema invece che sulla dittatura del futuro, sulla semidittatura del presente. I tuoi contatti per poter comprare i tuoi libri, per scriverti, quali sono? Allora, su Facebook ho due profili, Massimo Festa, scrittore e Massimo Festa. Poi a breve devo fare un sito internet e poi per quanto riguarda i libri sono tutti reperibili online, sui vari siti online, sui normali canali di distribuzione. Alcuni libri per i quali il contratto di edizione è scaduto, poi saranno nuovamente pubblicati online perché rinnoverò il rispettivo contratto di edizione.